Popolo di internet, ben ritrovati in un nuovo video, pure benvenuti, c'è la prima volta che passate da queste parti Sono uomo che sapeva troppo, per gli amici uomo, e non c'è soffitta, non c'è la soffitta di camera mia Questo mese ha marcato visita, siamo qui, anzi sono qui per guardare assieme a voi anteprima 391 Il dossier online, ma anche cartaceo, insomma, che ogni mese ci mostra cosa arriverà prossimamente in campo Marvel, DC, Disney E anche qualcos'altro come le tartarughe ninja che vi sto mostrando in questo momento Quando arriva il weekend, quindi quando il 15 del mese cade di weekend, magari non è facile sempre beccarsi Tra me è il buon soffitta, quindi questo mese non c'è ma tornerà, tornerà come nei migliori film Marvel C'è la post credit con scritto la soffitta di camera mia, tornerà Ma, nonostante la sua assenza, possiamo vedere assieme comunque il nuovo numero di anteprima Con un sacco di uscite che, lo dico subito, se volete comprare potete farlo, quando arriveranno, su insidecollectors.com C'è qua sotto in descrizione il link al sito Fanno anche spedizione in contrassegno, quindi pagate solo quando la merce vi arriva a casa direttamente a chi ve la consegna Al corriere, ci sono le spese gratis oltre una soglia di spesa E fra l'altro, se scrivete UOMO Una volta che avete comperato, avete il 5% di sconto su qualsiasi cosa e per ogni acquisto Quindi tutte le volte che comprate qualcosa Fatelo, magari prendete anche dei bei volumoni, di quelli grossi, di quelli costosi Così comunque lo sconto è ancora più grosso Perché pagando di più, la fetta tagliata in percentuale sarà comunque maggiore Quindi mi raccomando, fatelo, è anche un modo per sostenere il canale Loro sono veramente bravi Se c'è qualcosa che vi interessa ma non lo trovate su insidecollectors Gli mandate una mail, gli scrivete e sicuramente ve lo trovano A meno che non sia qualcosa di super esaurito Ma siamo pronti con anteprima 391 Un numero abbastanza interessante Perché qualcosa di figo ci sarà in ogni campo Partiamo brevissimamente appunto dalle pubblicazioni legate alle mie adorate tartarughe ninja Teenage Mutant Ninja Turtles Che sta proseguendo in due modi diversi Magari qualcuno di voi lo sa e se non lo sa ora lo saprà C'è chiaramente la normale pubblicazione in brossuratini Che è iniziata oramai una decina d'anni fa Era il 2013 E che è arrivata al numero 66 Che uscirà a maggio Questa anteprima copre praticamente primavera Primavera esplosiva Mese di maggio ed intorni Da maggio però le tartarughe ninja torneranno mensili Adesso usciva ogni 2-3 mesi Diciamo formalmente ogni 2 mesi Tornerà a essere mensile Perché? Perché chiaramente Panini vuole avvicinarsi alla fine della serie americana Fine per modo di dire Perché con il numero 150 si fermano Ma poi si riparte con un nuovo numero 1 Che tiene comunque in considerazione Tutto quello che è successo nei primi 150 numeri Ma è anche un nuovo inizio Quindi magari un bel modo per saltare a bordo Che vi segnalerò al momento in cui Uscirà questo nuovo numero 1 Quindi da maggio uscirà ogni mese Ogni mese 13 euro Una spesa forse un po' altina Però ormai ci siamo Siamo quasi alla fine Quindi se state collezionando queste tartarughe ninja Non fermatevi ormai Portate alla fine la serie Che credo a questo punto nel 2024 potrebbe finire Perché in 6-7 mesi dovrebbero arrivare in pari Praticamente con il numero 150 E poi vedremo cosa succederà con la ripartenza Parallelamente dicevo Va avanti anche la collezione delle tartarughe ninja Con i volumi Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe Vedete? Il numero 5 esce a maggio I primi 4 sono ancora tutti comprabili sul sito Della Panini o da altre parti Tipo Inside Collectors Magari potete prenderli in bundle Comprateli tutti e 4 Mentre aspettate il quinto E che cos'è? E' una ristampa ovviamente delle tartarughe ninja Della serie sopra Del volume che vedete qui Ecco qua Di questi qua In però cartonati Cartonati grossi Insomma su YouTube trovate anche l'unboxing Del mio primo Del primo Cartonato Magari quando uscirà il quinto Quasi quasi a maggio Faccio un bel recap Dove dico ecco i volumi per ora usciti Quindi volume 5 Dovrebbero essere anche lì Credo una ventina di volumi 18-20 più o meno Per contenere tutti e 66 e passa I brussuratini della serie diciamo regolare Insomma comunque le leggiate Leggete le tartarughe ninja Perché questa serie è fighissima E' veramente super super figa Finita la sezione Delle tartarughe ninja Passiamo alla DC Facciamo DC Una capatina veloce in Disney E poi Marvel Perché Marvel ha le cose Un po' più interessanti Quindi restate con me fino alla fine Perché c'è veramente tanta roba Molto molto figa DC DC abbiamo Batman 94 Finisce Gotham War L'attuale grande macro ciclo Che ha tenuto banco negli ultimi mesi Ne abbiamo parlato anche comunque Nei vecchi numeri di anteprima Io cerco sempre di segnalare Magari quando è il momento Di iniziare a leggere Una testata Piuttosto che no Direi che non è il momento Adesso siete rimasti In ballo negli ultimi mesi Con la run di Chipsdarsky Che avevo segnalato però Quando era iniziata all'epoca Mi raccomando Seguite sempre il mio canale YouTube Perché faccio sempre dei video Più o meno di quasi tutte le testate Quando ricominciano Quindi tenetelo sempre d'occhio Se volete cominciare a leggere Supereroi Batman 94 E Batman 95 Che propone un Un nuovo diciamo Una nuova minisaga Tratta da Detective Comics Perché sappiamo che Batman Pubblica sia Detective Comics Che la serie principale Batman Quindi insomma Mese di maggio Finale e numero di passaggio Per l'uomo pipistrello Vediamo cosa succederà Nei prossimi mesi Prosegue Batman e Robin Prosegue Joker L'uomo che ha smesso di ridere Penultimo numero Quindi tra poco Saluteremo la testata Del criminale che ride Di Gotham City Quindi ormai siamo agli sgoccioli Prosegue Molto tranquillamente Superman 9 Ormai Superman è ritornato C'è Superboy Quindi i due collaborano Per sconfiggere delle minacce Prosegue Batman Superman I migliori del mondo Insomma Questi spillati Con le serie regolari Se non propongono qualcosa di nuovo Come sapete Cerco di andare Sempre abbastanza rapido Wonder Woman 3 Io devo ancora leggere Non ho ancora letto Il primo numero di Wonder Woman Non so la nuova serie Com'è So che ha fatto un po' di scalpore Appunto in America Ecco Per Wonder Woman A maggio uscirà Il terzo numero A marzo Quindi nel momento in cui Sto registrando Arriverà O è già arrivato Il primo numero Della nuova serie Quindi ecco In effetti Potrebbe essere anche Un ottimo momento Per iniziare a leggere L'Amazzone Proseguono le ristampe DC Best Seller Quindi in formato Ridotto Non grande come un topolino Che ho qua Ma un po' di più Più formato Tex Di Landog No roba Bonelli Ristampe con Carta Diciamo Non di pregio Prezzo molto basso Ma utili Per recuperarsi Magari dei grandi cicli Il lanterna verde Di Job Jones È ovviamente Consigliatissimo Sempre Una delle migliori Lanterne verde di sempre Siamo già al numero 20 Ma sono abbastanza Recuperabili E poi arriva La vera bomba La prima bomba Diciamo di questa Video Su Anteprima Cioè DC Pocket Collection Cos'è DC Pocket Collection? Ecco qua si parlava Di topolino Non siamo lontani Da quella grandezza Ovviamente più spessima Come grandezza Non molto superiore DC Pocket Collection Sono delle ristampe A prezzo budget Quindi costano poco Formato un po' più piccolo Prezzo appunto popolare Come dice Lo strellone Nuova collana Ideale Per nuovi lettori Insomma Pubblicano Diciamo I grandi capolavori Le grandi storie Cardine O anche le graphic novel Magari anche fuori Continuity Che però riguardano La DC Si comincia con un parterre Di numeri interessanti A maggio Stiamo sempre parlando Di maggio Il primo è Batman The Killing Joke Che contiene però Due storie E non solo La famosa The Killing Joke La prima L'abbiamo già detto È The Killing Joke Quindi Alan Moore Brian Balland Insomma Ritraggono Una delle storie Più importanti Più iconiche Del pagliaccio Del crimine Joker C'è il momento Dello sparo A Barbara Gordon Che la trasformerà In Oracle Lasciandola sulla sedia A rotelle Prima che poi Insomma La nuova Continuity DC La facesse ricamminare Di nuovo Lo sapete Io non sono un grande fan Purtroppo Di quando la DC Fa repulisti E fa ripartire Tutto da zero Il suo universo Ma questa storia È una storia Cardine C'è anche La storia del Joker Le origini del Joker O almeno Una delle origini possibili DC ha sempre Scanonizzato Diciamo L'ufficialità Di quest'origine Dicendo che è quasi Una sorta di visione Di sogno Di possibilità Ma è comunque Un'origine interessante Perché va a riflettere Proprio sul personaggio Di Joker E poi c'è L'Uomo che ride Scritta da Ed Brubaker Disegnata da Dogman Anche questa Storia super classica È praticamente Il primo incontro Tra Batman E Joker Ridisegnato Diciamo In chiave moderna Visto che Il primo Risale agli anni 40 Quello originale E a differenza Magari di Marvel Che già negli anni 60 Aveva dei ritmi Un modo di narrare Sicuramente ingenuo Ma perlomeno Un po' più moderno Insomma La DC Dei primi anni Fin anni 30 Anni 40 Insomma È un po' più difficile Da digerire E poi tra l'altro È stata quasi Completamente Scanonizzata Poi con Cresi sulle terre Quindi se volete Effettivamente La più moderna E canonica Storia Che racconta L'incontro Fra Batman E Joker La prima volta Sta in L'Uomo che ride Volumettino Ripeto Prezzo budget Perché parliamo di 9,90€ 15x23 Ripeto Sono un po' Piccolini Ma come dico sempre Se magari non avete mai letto Alcune opere Prendetele magari In questo formato Se vi piacciono tanto Poi sarà il caso Di prenderle in formati Più Più grossi Io l'ho fatto The Killing Joke Io ce l'ho L'avevo letto la prima volta In un formato Veramente Pezzente Poi fecero quella Grossa ristampa In volume Formato gigante Eccetera eccetera E l'ho presa Perché amavo tanto La storia Abituatevi Soprattutto in termini Di supereroi A ricomprare Magari alcune storie Quando escono In formati Super fighi Quindi Pocket Collection Parte con The Killing Joke A maggio Ma Nello stesso mese Perché li buttano fuori Tutti assieme E qua so che alcuni Potrebbero Restarci un po' male Perché magari Vorrebbero diluire Le spese Se le ritrovano Tutti a maggio Ma credo Panini Li faccia anche Per durare Quindi non preoccupatevi Non dovete comprare Tutto a maggio Di corsa Sempre Per 9,90 euro Abbiamo All Star Superman Questa invece di Grant Morrison Disegnata da Frank Whiteley Suo grande sodale Per quando si tratta Di disegnare I supereroi Lo ricordiamo Nei suoi X-Men Completamente folli All Star Superman Ne abbiamo già parlato Tante volte Sul mio canale Anche sulle mie live Io vi ricordo Che faccio Live su Twitch E vi invito A venirmi a Vedere Quindi iscrivetevi Anche lì Tranquillamente Tanto è gratuito Funziona Praticamente come YouTube Quando vado live Mi trovate live Lì Lo dico perché Magari molti Restano su YouTube E non passano Dall'altra parte Ma è molto figo La sera Facciamo delle live Dove chiacchieriamo Leggo tutti i vostri commenti Si commentano le news Ogni tanto si gioca Ogni tanto si chiacchiera Ci sono ospiti Quindi insomma Venite perché Sono tante live Direi credo Interessanti Dove chiacchieriamo Un sacco Dove cerco Quasi sempre Di leggere Tutto quello che scrivete E di rispondere A tutte le domande Che mi fate Abbiamo parlato Tante volte All Star Superman Che in qualche modo Sembra ispirerà Un po' Il Superman Di James Gunn Riflette proprio Sul personaggio Diciamo È una È soprattutto È soprattutto Una riflessione Su che cos'è Essere Superman Cioè qua viene definita Una storia Classica Al tempo stesso Innovativa Che riporta Superman Alle origini Insomma È un modo Veramente Per riscrivere Quello che è L'essenza di Superman Se volete capire Superman All Star Superman È una delle cose Da leggere Assolutamente E Qua viene Proposto integralmente Nei suoi 12 numeri Sempre a 9,90 euro Parlando di Opere Importantissime Nel multiverso DC Perché chiaramente Poi sono stati Dei crossover Ma è un altro Universo C'è Watchmen Watchmen Insomma Film di Zack Snyder Che io Detesto Opera Veramente Importantissima Di Alain Moore Disegnata Da Dave Gibbons Questo mondo Dove I supereroi Ormai Sono decaduti In qualche modo È un mondo crudo Dove i supereroi Vengono ritratti Non come delle divinità Ma anzi Come dei Fin troppo Umani C'è il nostro amico Rorschach Che ovviamente Dice che la fine del mondo È vicina Che sta indagando Su un segreto C'è il dottor Manhattan Questo eroe Potente Veramente Come un dio Lui sì Che è letteralmente Una divinità C'è una sorta di parodia Della Justice League Di supereroi Ritratti Al tramonto Diciamo Delle loro Avventure Che ormai Hanno appeso Il mantello Al chiodo Vabbè Insomma È Watchmen Una riflessione Sulla società Una riflessione Sui supereroi E La graphic novel Disegnata Come disegnata Da Dave Gibbons Ragazzi Vale Centomila volte Il film di Zack Snyder Se avete visto Solo Il film di Watchmen Vi prego Leggetevi La graphic novel È anche una lettura Abbastanza Facile Diciamo Rispetto a tanti altri Tante altre opere Di Alan Moore Quindi fate la vostra Costa un po' di più Perché chiaramente È più grosso Sono più pagine Sono circa 12 euro Però Come vedete 9 euro 12 euro Prezzi comunque Molto abbordabili Per oltre 400 pagine E quando la leggete Dovrebbero esserci Anche qua Gli inserti Tra un capitolo e l'altro Leggete Tutto quello che c'è Non saltate Gli inserti Sono dei finti Articoli di giornale Dei finti pezzi Di romanzo Insomma Dei finti Delle finte lettere Sono tutte cose Che in realtà Arricchiscono e spiegano E spiegano anche molto Dietro le quinte Il mondo di Watchmen E vanno letti Quando Alan Moore Ve li propone Quindi mi raccomando Non saltate Da un capitolo all'altro Gli inserti Perché sono importanti Fanno parte dell'opera Watchmen In serie importantissima Ma proseguiamo Perché DC Collection Non si ferma DC Pocket Sempre a maggio Quindi ripeto Prendete magari Quello che vi ispira di più Ma poi Non dico di recuperare tutto Ma Questa prima tornata Secondo me è tutta da recuperare Abbiamo Batman anno 1 Frank Miller e David Mazzucchelli Quindi anche qua Due autori Della Madonna Con le origini Più moderne E più canoniche Di Batman Anche qua Ecco questo andrebbe letto Prima di L'Uomo che ride Vi leggete Batman anno 1 Poi potete leggervi L'Uomo che ride E poi The Killing Joke Fate una lettura a tre Batman anno 1 E' il primo anno di Batman Le origini di Batman Ispiratore anche di Batman Begins Per dire Di Christopher Nolan Insomma Per sommi capi Diciamo Però sono le origini Vere e proprie di Batman Insomma Dopo quello che è successo Ai suoi genitori Batman va a destrarsi Torna a Gotham City Sceglie il pipistrello Come simbolo E protegge Gotham City Dai criminali Quindi Batman anno 1 Le origini definitive Dell'Uomo pipistrello Da tenere lì Questo lo mettete davanti Alla vostra collezione Di Batman E da lì in poi Potete leggere Tutto quello che volete DC Pocket Collection Kingdom Come Anche di questo Se ne è parlato tantissimo Sul mio canale Anche nei miei social Vi consiglio anche Di seguirmi sui social Su Instagram Faccio spesso Dei momenti sondaggio Dei momenti Risposta Dove magari Vi chiedo di chiedermi Quello che volete Insomma anche lì È molto interessante Pubblico delle notizie Le recensioni Abbiamo parlato spesso Anche lì Di Kingdom Come Perché il simbolo La S Che ha Superman In questa cover In tutta la storia È lo stesso Che James Gunn Ha adottato appunto Per il suo nuovo film Di Superman Che uscirà L'anno prossimo Kingdom Come Ambientata nel futuro Ambientata nel futuro Scritta da Mark Waid Tutta disegnata Da Alex Ross Alex Ross Gigante Del fumetto Pittorico Io Lo sapete Non lo amo Tantissimo Nelle storie Kingdom Come È una delle poche Che riesco Veramente a digerire Disegnate da Alex Ross Assieme a Marvels Perché lui fa Queste tavole Molto pittoriche Che a me risultano Un po' pesanti Quando Diventano Un'intera storia Mi piace l'illustrazione Ma quando faccio Vignetta per vignetta Secondo me È un po' È un po' pesante Il suo metodo pittorico Ma Kingdom Come È anche questa Una storia importantissima È ambientata nel futuro Molto remoto Batman appunto Non è più Batman E Superman Addirittura Si è auto esiliato Ha detto Basta Me ne vado Perché Perché il Joker Ha fatto un omicidio Diciamo di massa Nella Nella sede Del Daily Planet Era a processo Perché insomma Dovevano Arrestarlo Ma Un nuovo vigilante Lo ha ucciso Uccide Joker Perché dice Tu hai fatto una strage Meriti di morire E la La folla esulta La gente è felice Della morte di Joker E Superman Si esilia Perché capisce Che è finita L'epoca degli eroi Dice Se la gente esulta Perché Joker è morto È la fine Cioè Il nostro dogma Di non uccidere più Non ha senso Ma Proprio ritirandosi Proprio ritirandosi Capisce Superman Il suo valore Perché caduto lui Cadono un po' tutti Si ritirano un po' tutti Insomma Il mondo smette Di essere luminoso E anche qua È una bella riflessione Sul personaggio di Superman Ma in generale Su tutti i personaggi Della DC Sul senso di essere Eroi E insomma Starà a voi Poi vedere perché Torneranno Come torneranno Insomma Come la Justice League Tornerà a essere Quello che Dovrebbe essere Quindi Kingdom Come Altra opera Importantissima Ambientata ripeto In un futuro Quindi diciamo Fuori continuity Ma molto 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 interessante Quindi Fate la vostra Fate la vostra Insomma DC Pocket Collection Iniziativa A prezzo E formato popolare Che potrebbe avvicinare Magari chi legge Pocola DC Andiamo un po' Più rapidi Ora con il resto Della DC Anzi Bevo un attimo Catwoman Anno 1 Siamo dalle stesse parti Diciamo che siamo Lontani sicuramente Dalla JJ Birch Ai disegni Non sono un grandissimo fan Di Catwoman Anno 1 Ma se vi piace il personaggio Sicuramente anche qua Un buon modo per Partire da qualche parte Un po' di Cose inerenti A Dawn of DC Come sapete C'è stato Crisi oscura Sulle terre infinite Ora il multiverso È ritornato ad esistere In tutto il suo splendore Comprese tutte le terre Che andarono cancellate All'epoca Di crisi E in più I personaggi Ricordano tutta la loro vita Quindi anche tutti gli universi precedenti Insomma è una DC Multiversale Piena di Potenzialità Vediamo come la sfrutteranno E quindi insomma Quest'alba Dawn Dawn of DC Questa nuova alba Della DC Viene raccontata Con tutte le nuove testate Alcune già cominciate Tipo Batman Superman Wonder Woman Altre che iniziano appunto A maggio Ci sono i Teen Titans Che vengono raccolti già In volumetto Non in spillati Flash Flash non è più In spillati purtroppo Non vendeva abbastanza Quindi i primi sei numeri Già verranno raccolti Tutti assieme In questo primo volume Crisi nella forza Della velocità Birds of Prey Le Birds of Prey Sono protagoniste Di un film Abbastanza sventurato Ma anche loro Si uniscono La nuova DC Harley Quinn Ragazza in crisi Perché ricordiamoci Che ora Harley Quinn È una supereroina Non è più Una Non è più Una Una criminale Non ama più Joker Si è slegata Dal suo Pagliaccio del crimine Compagno Ha capito Quanto lui fosse Tossico E maledetto Vicino a lei Insomma vi prego Ragazze Soprattutto all'ascolto Mai mitizzare Una love story Terribile Come quella di Harley Quinn E Joker Vi prego Allontanatevi Dai Joker Che vi circondano Fate come Harley Superboy L'uomo del domani Quindi il figlio Cioè il figlio Il clone Di Superman E di Lex Luthor Uno dei miei personaggi Preferiti Uscì anche lui Insomma Soprattutto esplose Negli anni 90 Quando tutti venivano Venivano clonati Quindi nuova serie Anche per Superboy Clone tra l'altro Di Superman Di Lex Luthor Quindi anche quella parte Un po' Un po' Cattivella Inside Steelworks Rinascita di un eroe Metropoli Nel futuro E c'è Steel E tutta la sua compagnia Di Steel Steelworks Insomma Il supereroe Il supereroe Metallico Di colore Che protegge La Metropolis Del futuro Non sono mai stato Un grande fan Di Steel Tra l'altro C'era anche Una Una vecchia Sera animata Con lui come protagonista Ma grande rilancio Del personaggio Diciamo In epoca moderna DC Pride 2024 Praticamente Contiene Chiaramente Il Pride Monty In realtà Del 2023 Sapete che noi Siamo sempre un po' In ritardo Rispetto all'America Un volume Un volume Che festeggia La diversità Un'iniziativa Splendida Secondo me Che sia Marvel Che DC Fanno ogni anno E che Panino Oramai pubblica Sempre in volumetto Con una serie di storie Raccolte Con vari personaggi Che raccontano Proprio un po' La diversità Del mondo DC Del nostro mondo In realtà Che viene riflessa Nei fumetti Anche se Molta gente Crede che non sia così Probabilmente O lo nega Se stessa O frequente Della gente Molto brutta Attorno a sé Un po' Di ristampe Un po' Di Di Raccolte Abbiamo La Il Joker Di James Tinion Insomma La Joker War Diciamo Raccolta in volume Con il primo volume Il Commissario E il Clown Abbiamo Il Detective Comics Più recente Diciamo In questo caso Raccogliendo però Le storie Quelle più Più classiche Anni 80 Il Cavaliere Oscuro Detective Quindi un po' Il meglio Di Batman Detective Comics Di quell'epoca Quando esplose Diciamo Il Batman Più oscuro Quarto volume Batman Shadow of the Bat In DC Evergreen Quindi diciamo Le storie Intramontabili Della DC Con il Batman Di Alan Grant Che verrà raccolto In una serie Di volumi Diciamo Cartonati Cartonati Nuovo Arkham Asylum Jeremia Arkham Il figlio Dell'originale fondatore Prende possesso Della struttura Dell'Arkham Asylum Abbiamo Batman Rinchiuso Dell'Arkham Asylum Insomma Una serie Molto anni 90 Molto però figa Alan Grant C'è Tim Sale Danny Urgens Ai disegni Insomma ci sono Veramente autori Super storici E' un Batman Un po' diverso Raccolto in cartonati Ma potrebbe essere Molto interessante Per chi vuole Delle storie Un po' più action Un po' più classiche Quasi più vicine Ai film Alla serie animata Shadow of the Bat Potrebbe essere Quello che fa Per voi Creature Commandos Qua salterei Abbastanza velocemente Comunque sono Le storie Diciamo classiche Anni 70 80 direi Dei Creature Commandos Questa strana squadra Di mostri Che combatte Al fianco dei militari Che in qualche modo Ha ispirato La nuova serie animata Che debutterà Molto presto E che in qualche modo Apre le porte Del DCU Di Di James Gunn Al cinema Non ve la consiglio Moltissimo Prosegue Mondi di guerra In panini direct DC eventi Insomma DC eventi È la collana Che raccoglie Tutti i maxi eventi Targati DC Comics C'è il In DC Deluxe La raccolta Il ciclo Di Francis Manapool Disegnato da Brian Buccellato Che viene raccolto Appunto In questo volume Su Detective Comics Come dice qua È un approccio Molto artistico Molto d'atmosfera Storie Dal sapore Classico Di Batman Proprio in stile In stile Detective Magari un po' più Per palati Raffinati Per chi cerca qualcosa di un po' diverso E anche Non dico fuori continuity Ma non così influente Magari sulla vita Del Cavaliere Oscuro Io le avevo lette queste All'epoca Waller contro Wildstorm Una donna al comando La squadra degli Wildstorm Contro la squadra di Amanda Waller Quindi anche qua Comunque siamo dalle parti Di James Gunn E dei film che vorrà portare Al cinema Con il suo nuovo DCU DC Omnibus Batman Di Jeff Loeb E Team Sale Questa è la raccolta Definitiva Di tutte le storie Scritte da Jeff Loeb E disegnate da Team Sale Quindi abbiamo Il lungo Halloween Abbiamo Vittoria Oscura Abbiamo Catwoman Vacanze Romane Insomma Con 100 euro Non pochi Per carità Ma Potete prenderli sempre Su Inside Collectors Così avete Il vostro sconto Scrivendo Uomo E soprattutto pagate Quando vi arriva La consegna E la raccolta Definitiva Delle storie Di Loeb e Sale Due grandi Che quando hanno collaborato Hanno fatto cose meravigliose Sia in Marvel Che in DC Che in Marvel Come i vari Spider-Man blu Il grigio Insomma i colori Le serie a colori Come vengono chiamate Della Marvel Qua Se volete avere Un volume Con il meglio Forse Tra le storie migliori Di Batman Mai scritte E tutto quello che gli autori Hanno fatto Quindi è un volume Anche completo Non è un volume 1 Ma una raccolta completa Andate di DC Omnibus Batman Di Loeb e Sale Fatelo assolutamente vostro Storie grandiose Non sto nemmeno Lui a descrivervele tutte Vi ho parlato Del lungo Halloween Di Vittoria Oscura Di Catwoman Insomma Fatelo vostro Fatelo vostro Se volete leggere Batman Tra l'altro Perfettamente leggibile Questo volume Dopo Batman anno 1 Voi fate Batman anno 1 L'uomo che ride E poi vi buttate Su Vabbè Volendo Ci avete Killing Joke Ma quello magari Andrebbe letto dopo Vi leggete tutto Questo omnibus E godete come matti E avete anche fra le mani Una sorta di bella continuity Del pipistrello Quindi mi raccomando Fatelo vostro Ripeto È un omnibus Costa parecchio Ma 1232 pagine Avete letture Per un anno Volendo Cioè Se ve lo prendete con calma Non leggerete altro Per mesi e mesi Fatelo vostro Fatelo vostro Assolutamente Finita la DC Passiamo a Disney Abbiamo le classiche Variant cover Di Topolino Che escono tra fine aprile E Anche All'inizio In realtà Di aprile Perché vedo che c'è Una calamita In omaggio Per i 75 anni Di Topolino Quindi il 3 aprile Fate la vostra Se la volete Insomma replica La primissima La primissima cover Del Topolino Formato libretto Invece Il 24 aprile Per la prima volta C'è una variant Che celebra Insomma il libro Il salone del libro Di Torino Disegnato da Paolo Mottura Non la possiamo ancora vedere Ma Insomma Se siete golosi Di variant Disney Mi raccomando Tenetela d'occhio 24 aprile Magari cominciate poi A chiedere In fumetteria Quando Ordinarla Topolino E le cronache Di frontiera Sulle serie imperdibili Quindi cartonati Che Ristampano Storie molto importanti Della Disney Dal numero 15 Credo Tutta di fila Ma vedremo Venne ristampata Topolino E le cronache Della frontiera Serie anni 2000 Scritta da Giorgio Pezzin E praticamente È una storia Ambientata In un futuro In un futuro Che va Un po' A In qualche modo Andare a Pescare Dai più grandi Classici Della fantascienza Abbiamo appunto Gamba di legno Come nemico Abbiamo Il droide Nazar 36 Che vedete Sta scrivendo Che racconta Appunto Queste Queste gesta Eroiche Topolino Pippo Orazio C'è un Viaggio cosmico Da fare Appunto Gamba di legno Il nemico Questa strana figura Che sembra un po' L'imperatore Di Star Wars Insomma Se volete Una maxisaga Veramente figa Fantascientifica Che ricorda Dune Star Wars Star Trek Insomma C'è veramente di tutto Comprate assolutamente Topolino Le cronache Della frontiera Sono letture Che vanno benissimo Anche per gli adulti È quel tipo di saga Che toglie quasi del tutto Chiaramente Un po' La Forse il pubblico Un po' più di Super giovani Chiaramente adatta Anche ai bambini State tranquilli Non c'è niente Di agghiacciante Ma anche se siete adulti E magari volete Riavvicinarvi al mondo Disney O non l'avete mai fatto Fate vostre Le cronache Della frontiera Arrivano Di frontiera Ah no Della frontiera Sì là c'è scritto Di frontiera Non so perché Hanno sbagliato Sempre a maggio 12 euro Il primo volume Non so quanti saranno Eh no Sono 11 avventure Le prime 3 Quindi 3 6 9 12 In 4 numeri Diciamo Dovrebbero Dovrebbero pubblicare tutto Non vedo l'ora Io ce le ho già raccolte Tra l'altro In un piccolo volumetto Degli anni 90 Ma in questo bel formato Le farò Assolutamente mie Antologia di Blue Peaks Valley Passiamo a qualcosa Di più moderno Comunque La nascita Insomma Il Come è nato Il Paper Sera Diciamo La Il Giornale Di Paperopoli Che è una parodia Un po' Del nostro Corriere della Sera Come è nato Il Paper Sera 5 avventure Che raccontano La nascita Appunto Di Di questa Rivista Di questo giornale Che da anni Comunque impazza Sulle pagine di Topolino Perché tutte le volte Che un personaggio Sta leggendo qualcosa Sta leggendo Il Paper Sera Il quotidiano Di Zio Paperone Quindi Potrebbe essere interessante Io non sono un grandissimo fan Di queste nuove Incarnazioni Del Paper Sera Amo molto La serie classica Che ho raccolta Là in alto Che qualche volta Vi ho Vi ho mostrato Però Potrebbe essere interessante Per chi vuole esplorare Diciamo Una sorta di continuity Dell'universo Disney Avere le origini Del Paper Sera Può essere interessante Tra l'altro Credo Verrà pubblicato In Non ci è segnalato niente Ma dovrebbe essere Un libro Di quelli Un po' Alla Delle varie raccolte Che ci sono state Ultimamente Quelle morbide Diciamo Con copertina morbida Non mi ricordo Come cavolo si chiamavano Però insomma Quel tipo di Di raccolta Proseguono Le ristampe Delle storie di Casti Thriller Collection Mistero E avventura Con appunto La pubblicazione Con insomma Con il ritorno Di Macchia Nera Come nemico Abbiamo Casti C'è Roberto Vian Pastrovicchio Cavazzano i disegni Quindi Se amate Casti A me piace Ma non ne sono così Così devoto Qua insomma Potete proseguire Con le sue avventure È già il sesto numero Ne abbiamo parlato parecchio Negli scorsi numeri Di anteprima Definitive Collection Extra Che prosegue Con la ristampa Di Fantomius Il ladro gentiluomo Anche qua L'ispiratore Di Paperinic Colui da cui Dal quale Paperinic Prenderà Tutti i vari gadget Per diventare Poi appunto Il protettore Di Paperopoli Siamo al numero Nove Di Fantomius Quindi Siamo anche qua Già abbastanza avanti Con le ristampe È stato anche Introvabili Quindi insomma Se volete In qualche modo Proseguire O scoprire Fantomius Fatelo magari Nelle Imperdibili Che raccoglie anche Il ciclo di Fantomius Insomma la stessa collana Delle cronache Della frontiera Battista Maggiordomo Esistenzialista Simone Tempia Sui social L'avrete visto Pubblica un po' Queste vignette Con Lloyd Questo Maggiordomo Che dà degli insegnamenti Al suo ricco padroncino Insegnamenti di vita Sono state traslitterate Sono state portate Diciamo su Disney Dove Lloyd diventa un po' Battista E Zevo Perone Quello che Coglie i suoi insegnamenti Ha venduto 250.000 copie Vita con Lloyd Quindi chiaramente Vogliono Disney Ha subito colto La palla al balzo Per farne una sorta Di serie parallela Con queste pagine Storielle Da una pagina Di Battista 5 euro 48 pagine Quindi una cosa Molto piccola Per curiosità Io le sto leggendo Su Topolino Alcune Penso che potrei Anche prendermelo Ripeto 5 euro Volumettino Ci può stare Ci può stare Art book Le carte da gioco D'autore Che vengono proposte In Anzi riproposte Perché già doveva uscire Ma c'è stato Credo uno slittamento Un art book Con tutti gli art Delle carte Disney Ora non riesco a mostrarvele Ho alcuni Alcuni mazzi qua Venivano regalati Con Topolino Eccetera eccetera Quindi insomma Carte Disney In formato art book Per chi vuole vedere Un po' gli art Di vari autori Disney Fuga da Dactopia Quindi Ultima parte Della trilogia fantasy Di Artibani E Licia Troisi Ne abbiamo anche qua Parlato parecchio In passato Comunque se Amate un certo tipo Di fantasy Che mischia realtà E universo fantasy Tipo Isekai Giapponese Fuga da Dactopia È la degna conclusione Della trilogia Appunto Di Dactopia Amleto Per l'anniversario Di Shakespeare Quindi tutte le varie Parodie Di Disney Si passa da cose più nuove Scritte da salati A classici Di Romano Scarpa Insomma C'è Tra storie italiane E straniere Una bella raccolta Copertina telata Mi sembra di capire Dedicata appunto Alle parodie Diciamo Su di Shakespeare E Allo stesso modo C'è anche la biologia Di Giovan Battista Carpi Che si ispirano Diciamo A Sandokan Quindi avete questa doppietta Di storie Due volumi Appunto Con copertina Telata Con Queste parodie Disney Insomma Con queste storie Classiche Da una parte Shakespeare Dall'altra parte Sandokan E Salgari O Salgari No credo Salgari Quindi insomma Due volumi Parecchio Interessanti Buon compleanno Paperino Questo lo prenderò Assolutamente Topolino Gold Mia serie Prediletta Su questo volume Sul numero 14 15 euro 112 pagine Si festeggia 1934 2024 Il novantesimo Di Paperino 90 anni Un personaggio Novantenne Con storie Che da 90 anni Ci Fanno emozionare Che è più giovane Che mai In realtà Ha dentro Delle cose Interessantissime Perché c'è Il buon compleanno Paperino Di Marco Rota Che in qualche modo È una sorta di Cronologia Dalla nascita All'era moderna Di Paperino Quindi tutta la sua storia Molto interessante Un po' romanzata Insomma sapete Che il canon E Disney Non è che sia Proprio ufficiale Però Si può considerare Quasi una sorta Di proto Saga Di Paperone Ma su Paperino In un'unica storia È chiaramente Molto più blanda Molto più Sognante Ma Veramente Veramente Figa C'è Don Rosa Con un What if Cioè Paperino Dice Io faccio schifo Mi odiano tutti Non servo a niente Vorrei Desidererei Desidero di non essere Mai nato Cosa sarebbe successo Se Paperino Non fosse mai nato C'è questo What if Stile Marvel Dove Scopriamo che forse L'importanza di Paperino L'importanza Del suo esserci È molto più Preponderante Di quello che sembra Cioè È molto più fondamentale Perché Senza Paperino L'intero mondo Disney Sarebbe completamente diverso È bellissima Disegnata da Don Rosa Fate la vostra Io ce l'ho in vari formati Ma nel formato grande Di Topolino Gold La voglio assolutamente E poi c'è anche Buon compleanno Paperino Scritta da Janet Gilbert Disegnata da Giorgio Cavazzano Altra storia Su cui sono molto Affezionato Che anche questa Riflette un po' Sul crescere Sul compiere gli anni Sull'avanzare Insomma Dell'età Sulla giovinezza C'è Paperino Che appunto Si sente fin troppo vecchio Fa questa spedizione Con Con Zio Paperone Con dei colori Bellissimi Tra l'altro Insomma Sono tre storie fantastiche Fate vostro Topolino Gold 14 Buon compleanno Paperino Esce a maggio 15 euro Ma li vale Tutti Sono tre storie Leggendare Mi viene da dire Anche la terza Che magari Molti conoscono meno Perché è meno classica Fatelo vostro Perché è un volume Da avere Assolutamente Anche se magari Non siete grandissimi Lettori Disney Con questo Cadete Cadete in piedi Assolutamente Paperino 528 Insomma È il classico Paperino Mensile Ma questo mese Quindi maggio Festeggerà i 90 anni Di Paperino E c'è anche una variant Cover celebrativa Per Festeggiare Il compleanno Appunto Di Paperino La variant Credo la farò Mia Paperino 90 I classici Disney Che sapete I classici Disney Pubblicano Sempre queste raccolte Di storie Classiche Con magari Una storia centrale Che fa da ponte A tutte le altre Ecco Enrico Faccini Diciamo Fa una sorta Di celebrazione A tutto fumetto E seleziona Una serie di storie Per festeggiare Paperino Anche qua Mi sento di consigliarvelo Visto il prezzo Perché alla fine 4,90 euro Per 200 pagine Praticamente È perfetto Paperino 90 Giugno però Quindi esce un po' più Un po' più tardi Di maggio Ma Fatelo Fatelo vostro Magari ci farò anche un video In cui celebro Paperino E raccolgo un po' Tutto quello che È stato fatto Per celebrarlo Anche questo 4,90 euro Praticamente Regalato Paperino Superstar La serie Su Paperino Con le Le sue migliori Incarnazioni E ovviamente In questo Volume di giugno Si celebra Paperinic Con alcune storie Raccolte Un po' Del personaggio Un po' più Un po' più generico Paper mitologia Ne avevamo parlato Del primo numero Ma qua vediamo il secondo Il primo numero È in edicola In questo momento Mentre sto Registrando il video Quindi Metà marzo E Invece Il secondo Arriverà A maggio Perché esce ogni Due mesi Con dentro Una storia inedita C'è una serie inedita Che verrà pubblicata In questi 5 numeri Più tante storie Ispirate alla mitologia Mitologia Papera Paper mitologia 5,90 euro Sono volumettini Secondo me Molto interessanti Piccolini Carini Sono solo 5 Ripeto Potete farvi questa mini collezione Così se ogni tanto avete voglia Di storie mitologiche Mitologia greca Ed intorni Potete buttarvi Su Paper mitologia Io la sto seguendo Tanto è Molto molto carina Proseguono i grandi classici Disney Con il numero 101 Il 100 Arriverà Ad aprile Quindi mi raccomando Fatelo vostro Perché anche lì Ci sarà una copertina speciale Ed è bello Anche magari collezionarlo Anche se non siete lettori Disney I grandi classici Quindi proseguirà Quindi proseguirà Ovviamente con il numero 101 Storie molto classiche D'anni 90 Anche anni 80 Insomma I grandi classici Lo dico sempre Se non avete mai letto Niente di Disney Bene o male È difficile che vi propongano Dei menu Poco interessanti Magari ultimamente Possono essere Menù interessanti Per chi Da tanto tempo Legge Disney come me Ma per i neofiti Sono perfetti The best of paperopoli Quindi migliori storie Di paperopoli Ci interessa poco Disney big Solita cosa Anche qua Ristampe popolari 6 euro 90 Per oltre 400 pagine Quindi dei bei mattonazzi Sono quelli Fighi da portarsi In vacanza I Disney big Paperini Che arriva al numero 90 Attenzione Voglio vedere Cosa succederà Al 100 Se si riparte da capo Lo scopriremo Prosegue Zio Paperone Insomma Con le classiche Storie dedicate Al papro più ricco Del mondo Topolino in giallo Prosegue Con raccolta Di storie Appunto A tema giallo Questo è il numero 17 E poi abbiamo Le più grandi avventure Dedicate alle storie Misteriose Insomma Questi sono volumi Più Più raccolta Storie un po' Più casuali E comunque Sempre interessanti Alla fine Sono cose che Se volete leggere Qualcosa di generico Disney Vanno sempre Sempre bene Bevutina Perché arriviamo Alla parte finale Di anteprima Perché passiamo Alla zona Marvel Signori Marvel L'universo Ultimate È ripartito È ritornato Anzi Ne è nato Uno nuovo Perché non è il vecchio Universo Ultimate Ma è uno nuovo Completamente leggibile A se stante E Perfetto Se volete leggere qualcosa Che non sia la Marvel Che non sia la Marvel Classica Ma un nuovo modo Di interpretarla Ne ho parlato Sul mio canale YouTube Quindi vi invito A andare a vedere Cosa ho detto Ma adesso Che l'universo Marvel L'ultimate universe È tornato Partono le serie Dedicate ai vari personaggi X-Men Pantera Nera E soprattutto Spider-Man Spider-Man è già partito Nel senso che partirà A fine marzo Qua siamo a maggio Quindi siamo ovviamente Già più avanti Ma ricordiamoci che A fine marzo In questa serie di Fumetterie Che vedete qua Elencate Andate a cercarvi Cercatevi Anteprima 391 Su Google Scrivete Anteprima 391 Ve lo trova Andate a questa sezione Guardatevi la lista Nel caso Per vedere se la vostra Fumetteria aderisce O quelle più vicine Magari fate un colpo di telefono Per farvelo mettere via Ci sarà la Variant Cover Di Marco Checchetto Con Spider-Man Tra l'altro Con il costume di Ben Reilly Il mio preferito Uno dei miei preferiti Alla fine Del ragno Questa è la lista Di tutte le fumetterie Che aderiscono Dopo Spider-Man Debutterà Ultimate X-Men Disegnato e scritto Da Peach Momoko Ambientato Fra l'altro In Giappone In parte Perlomeno In cui abbiamo Isako Ichiki Cioè Armor Che ha questo potere Vedete mutante Di farsi crescere Un'armatura Di Una specie di campo di forza Intorno Scopre che Non è l'unica Avere dei poteri Insomma L'universo Ultimate Ci racconta Gli X-Men In chiave super moderna Quindi ragazzini Che scoprono Di A un certo punto Durante la pubertà Di avere dei poteri Che potrebbero essere Un miracolo per alcuni O Una dannazione Per altri Quindi Ultimate X-Men Non vedo l'ora Peach Momoko Disegna Da Dio Io la amo C'è anche una variant Disegnata da lei Probabilmente La prenderò Per forza Prosegue Ultimate Spider Ma ripeto Deve ancora partire Perché Noi lo vedremo A fine marzo Ma queste sono le uscite Di maggio Quindi a maggio Uscirà già Il 3 Perché marzo Primo numero Aprile Secondo numero Fine maggio Il terzo numero Prosegue anche Black Panther Col numero 2 Il numero 1 Arriverà invece ad aprile Perché sono così Marzo Ultimate Ultimate Spider-Man Aprile Ultimate Black Panther Maggio Ultimate X-Men Quindi slittate Di tre mesi E io ve le consiglio tutte Almeno i primi numeri Così intanto Avete tutto L'universo Ultimate Poi vedete voi Cosa continuare Oppure no Anche perché Black Panther Non sono solo Avventure dedicate A Pantera Nera Ci sono anche Dei misteri Legati proprio All'intero Universo Ultimate Quindi Secondo me È interessante Farle tutte È facile capire Qual è il nuovo Universo Ultimate Qualcuno Mi ha anche scritto Tipo il buon Chris B. Circle Uno dei miei utenti Chiedendomi come Riconoscere il vecchio Il nuovo Ultimate A parte Vabbè la data Di copertina Che chiaramente Quella nuova Potete anche chiederlo Al vostro fumettaro Ma se li ordinate Su internet Vedete c'è questa fascetta Bianca praticamente Che va A coprire un pezzo Di copertina E si capisce Che sono le nuove Serie Ultimate Non vi sbagliate Non vi sbagliate Amazing Spider-Man Le uscite più regolari Prosegue E finisce Gang War La guerra fra gang Che sta Imperversando Per New York Perché tutti i criminali Vogliono prendersi Una fetta Della città Quindi maxi evento Di Spider-Man Si conclude il 30 maggio Quello il numero 43 Diciamo Della nuova Della nuova numerazione Volume Dedicato a Daredevil Che raccoglie La sua miniserie E quello che è successo Durante Gang War Miles Morales Anche qua Gang War Insomma tutte le cose Legate al maxi evento Abbiamo la prosecuzione Di Spider-Boy Nell'ultimo video Dedicato ad anteprima Andate a recuperarvelo Vi avevo parlato Un po' del misterioso Spider-Boy Prosegue anche Venom Con Natasha Romano Vedova nera Simbionte Timeless Il futuro dell'universo Marvel Svelato Timeless è un appuntamento Annuale Ma anche semestrale Mi sembra di aver capito In cui esce questo albettino Che si chiama Timeless Senza tempo E che in qualche modo Ci fa degli Non spoiler Dei trailer Di quello che vedremo Nella Marvel Di lì a qualche mese O addirittura a qualche anno Insomma ci viene raccolto Nei primi due numeri C'era Kang Come protagonista Adesso invece In questo C'è Moon Knight E un Luke Cage Con un potere Diverso dal solito Non so cosa ci racconterà Però di solito Oramai Timeless È una sorta di antipasto Che Marvel pubblica Per darci un po' Un hint Un suggerimento Di quello che vedremo In futuro Abbastanza Abbastanza interessante Proseguono i Fantastici 4 Ed esce a maggio Quindi se a maggio Lo volete prendere 5 euro Sapete magari un po' Dove andrà Come proseguirà L'universo Marvel Fantastici 4 Proseguono Con la loro nuova testata E attenzione Inizia la fine Dell'era di Cracoa Per i mutanti Fall of the House of X O House of Ten Uno di cinque Saranno cinque numeri Il primo A maggio Appunto Con anche Variant Non lo consiglio In realtà Se non avete mai letto nulla Negli ultimi anni Di X-Men Ma è il gran finale Insomma Di questo ciclo Nato nel 2019 Dalla mente Di Jonathan Hickman Uno degli scrittori Più Pazzi E anche controversi Perché è amato Odiato Io Non amo sempre Tutto quello che scrive Perché lo ripeto Lui Crea questi mondi Queste Questi Continuiti Questi Regni Queste Geografie Molto Folli Molto fantasy E mi sembra quasi Che lui voglia raccontare La sua storia Prima che raccontare La Marvel Quindi ho un Cozzo un po' Con questa cosa Mi piacciono sempre Gli inizi Poi dopo un po' Mi stufo Dopo cinque anni Hickman se n'era già andato Altri autori Hanno proseguito L'era di Cracoa Finisce Quindi quest'isola Dove tutti Gli X-Men Tutti i mutanti Si erano in qualche modo Rifugiati Avrà fine Sono passati cinque anni Lo sappiamo La Marvel torna sempre All'inizio No? Ristabilisce Tutto il suo status quo E il rilancio Degli X-Men Che tra l'altro È uscito adesso A livello pubblicitario In America Noi lo vedremo ovviamente Un po' più in là Ma non vedo l'ora Comunque sarà Dopo Fall of the House of Ex Tra l'altro Essendo a maggio Cinque numeri Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Forse per Lucca Fino a ottobre Si potrebbe cominciare Con il rilancio Mutante Che credo invece Avverrà in estate In America Quindi Siamo anche giusti Come tempi Lucca potrebbe segnare L'inizio degli X-Men E quindi preparatevi Perché se non l'avete mai letti Potrebbe essere il momento migliore Questa ripeto Saltatela Perché è veramente Una È la summa Di tutto quello che è successo Negli ultimi cinque anni Perché andrà avanti ovviamente Parallellamente su varie testate Mutanti Quindi andiamo molto rapidi X-Men 32 X-Men Forever Che sostituisce Immortal X-Men Ma ripeto È tutta roba Che prosegue Su Wolverine Leggete da questo momento Siamo arrivati a un momento Di conclusione Di conti Per tante testate Mutanti Su Avengers Ecco Inizia invece una miniserie Molto interessante Se non avete preso I primi otto numeri Magari recuperateli È diciamo una sorta di Sono quasi un prologo Della serie di Avengers Vi ho parlato del numero uno Sul mio canale YouTube Sempre quindi Andate anche a recuperarvi Magari il mio La mia disamina Del primo numero Di questa nuova serie Dal numero nove Parte la miniserie Evento Avengers Twilight Cioè Un futuro Abbastanza prossimo In realtà Dove Capitan America Non esiste più La libertà Ormai è un'illusione E quindi Steve Rogers Che è ormai invecchiato Vuole però riunire Gli Avengers Per dare una sorta di speranza Alla Terra Anche qua Futuro Riflessione Sugli Avengers Io non l'ho letta tutto Ho letto solo qualche scampolo Perché volevo aspettare Appunto la versione La versione italiana Cover variant Tra l'altro di Frank Miller Volendo Sono Intrigato Intrigato Avengers numero nove Maggio Se volete Chipsdarsky ai testi Quindi gran scrittore Potrebbe essere anche Un bel modo Per iniziare a leggere Lo spillato degli Avengers Proseguono Invincible Iron Man Prosegue Capitan America Con la sua nuova serie Di Strazinski Che riflette sul presente Sul passato Del Sentinella della libertà Ma Anche qua ne ho parlato Negli scorsi episodi Quindi magari Recuperateveli Prosegue Daredevil Con la nuova serie Quella che è partita con lui Che è prete Anche qua ve ne ho parlato Sul Sul mio canale L'incredibile Hulk Con lo scontro Con i vari mostri L'immortale Thor E poi ci sono le ristampe Marvel integrale Con il Thor di Jason Aaron Meritatissimo Siamo al numero 23 La ristampa Delle avventure che hanno Anche ispirato Love and Thunder Ma non in maniera ridicola Ma scritta in maniera Più seria Con Jane Foster Nuova Thor Sempre nell'integrale Abbiamo lo Spider-Man Di De Matteis Con Cacciarragno La fine di Cacciarragno Una delle mie saghe Preferite di sempre Di Spider-Man Dove lui Ha quella taglia Sulla sua testa E tutti tentano di catturarlo Vedete Mitraglia lì dietro A destra E il punitore a sinistra Pronti a farlo fuori E Incredibile X-Man Siamo già al numero 65 Quindi ora Recuperarla tutta Forse è più un'impresa Che altro Ma questa viene anche Ristampata negli Omnibus Gli Incredibile X-Man Che io vi consiglio Questa è solo una ristampa popolare Comunque gli X-Men Di Claremont Marvel Replica Edition Già nel mese scorso Ne abbiamo parlato Inizieranno forse ad aprile Credo di sì Perché non sono ancora arrivate Comunque ci saranno Le varie Repliche Quindi Albetti Spillati Che replicano In tutto per tutto Gli originali americani Con numeri celebrativi Il debutto del punitore Su Spider-Man E il debutto di Deadpool Su New Mutants Costano 3,50 euro Sono proprio Albettini Che simulano Diciamo I vecchi Albi americani Su cui magari Debuttavano Gli eroi Deadpool e Wolverine Sarà a luglio Al cinema Quindi già da maggio Panini un po' Si adegua La uccidologia Di Deadpool Cofanetto completo Deadpool uccide L'universo Marvel Deadpool uccide I classici Vedete Li sta uccidendo Moby Dick Deadpool uccide Deadpool Quindi una serie di Varianti multiversali Deadpool uccide ancora L'universo Marvel Io non sono un grande fan Del macerano Chiaccherone Perché nei fumetti Mi ha rotto un po' Le balle Lui che uccide tutti È una storia Una serie di storie Che sono diventate Che in effetti Abbastanza dei classici Se volete prendere Questo bel cofanettone Fatelo vostro E potete avere L'ucidologia completa Al costo di 74 euro Quattro bei volumi Comunque cartonati Di un centinaio di pagine Possono divertirvi Se in qualche modo Amate Amate Deadpool C'è anche Cattivo Sangue La Mini serie Diciamo Scritta da Rob Liefeld Scritta e disegnata Da Rob Liefeld Anche Che è il creatore Di Deadpool Che torna a parlare Del personaggio Cattivissimo Sangue È il sequel Praticamente Di questa mini serie Poi abbiamo L'anniversary edition Di Io sono Wolverine Quindi un volume Che raccoglie Le Alcuni dei migliori Racconti di Wolverine Diciamo Fa un po' Un Dal debutto Dalla sua prima apparizione A una delle sue ultime Diciamo che raccoglie Non dico le migliori storie Però una serie Di storie Che possono un po' Raccontarvi Negli anni Chi è stato il personaggio 50 anni di Wolverine Quindi giustamente Con Deadpool e Wolverine Al cinema Panini un po' Si adegua La notte Il ritorno Dei Deadpool viventi Una sorta di horror Parodia di Callenban Pubblicata tanto Su Marvel Giants In formato gigante Sempre per parlare Di Deadpool Con Insomma Storie horror Sul mercenario Chiacchierone Marvel Zombies Parlando sempre di zombie Tra l'altro Arriverà Come dice qua La serie animata Marvel Zombies La miniserie Spin off Di What If Marvel Zombies Black White and Blood Con copertina Di Gabriele Dellotto Gartenni Sei testi Peach Momoco Insomma Tutta una serie Di disegnatori Disegnatrici Molto Fighi Che Appunto Bianco Nero E rosso Quindi Storie Antologia Di zombie Con questa colorazione Molto Molto Particolare Anche Per la Marvel Ci sarà il Pride Month Nel 2024 Con Diciamo La celebrazione Della comunità LGBTQ Plus E Diciamo Sulla Diversità Del nostro mondo Vista In chiave Marvel Una serie di racconti Che ci raccontano Appunto Un po' Varie Personalità Dell'universo Marvel I loro vari approcci A sessualità Amore Società Insomma Un bellissimo volumetto Anche quest'anno Come in Campo DC Una roba secondo me Super necessaria Che ci racconta Un mondo Che esiste Esiste da sempre Tra l'altro Ma Fortunatamente Può nascondersi Sempre meno Sempre meno Marvel Comics Manga Tribute Abbiamo Questo Artbook Con una serie Di immagini Di illustrazioni Fatte da artisti Giapponesi Che In qualche modo Festeggiano La Marvel Fanno tributi Alla Marvel Abbiamo Takashi Ozaki Di Afro Samurai Abbiamo Retsu Tateo Che fa Miss Marvel Lui è l'artista Di Full Metal Panic Insomma C'è La stessa Peach Momoko C'è L'autore Di One Punch Man Insomma C'è di tutto C'è Yoshitaka Amano Grande disegnatore Tra l'altro Che ha disegnato Anche le cover Dei vari Final Fantasy Insomma Se amate il Giappone Amate i manga Ecco Avete una serie Di illustrazioni Che reinventano La Marvel Must Have Volumi da libreria Grafica Non è mai piaciuta Ve lo dico sempre Questa fascetta dorata Ma Se siete lettori Più occasionali Volete farvi la vostra Libreria Di storie Che si devono avere Sono dei Must Have Di nome di fatto Ecco Potete farli vostri Anche a dei prezzi Abbastanza abbordabili Abbiamo Jessica Jones Alias Quindi insomma Diciamo La La storia Di debutto Di Jessica Jones Le origini Di Jessica Jones Scrite dall'immenso Brian Michael Bendis All'epoca Mark Bagley Tra l'altro Ai disegni Fra i tanti Quindi insomma Se volete sapere Chi è Jessica Jones Nei fumetti Fate vostro Questo Fantastici 4 1 2 3 4 Grant Morrison Che Ci racconta Fantastici 4 In crisi Quindi il quartetto Che da eroi La famiglia un po' divisa Un po' spezzata E vedete anche C'è una certa Susan Storm Che si abbandona Un po' L'anamore Dietro abbiamo Red Richard Urlante Che tenta di sfondare Il vetro Per dirgli Cosa state facendo Insomma Morrison lo sappiamo Un autore un po' pazzo In questo 1 2 3 4 Riflette anche qua Proprio sul Sul concetto Di Fantastici 4 Consigliato Strange Academy Risolvi per X Marvel Collection Viene raccolta La Come si dice Diciamo la Appunto Nuova miniserie Strange Academy Con anche Spider-Man Come ospite E Hogwarts Hogwarts in salsa Marvel Con i Come diventare Stregoni supremi Abbiamo un po' Di raccolte Di serie passate Quindi Gli spillati di Venom Che vengono raccolti Gli spillati di Miles Morales Che vengono raccolti In volumetto Moon Knight Nascita e morte La serie di Moon Knight Del 2016 Con tutti i suoi vari Alias Con la sua schizofrenia Questa è una serie Che consiglio molto A chi ha amato La serie tv di Moon Knight Io l'ho abbastanza odiata Ma devo dire Che la parte Onirica Con le sue varie identità Era la parte Che mi era piaciuta di più Ecco Questa serie Del 2016 In 14 volumi Raccoglie Molto bene Diciamo La Questa Nuovo modo Di approcciare Il personaggio Di Moon Knight By Jeff Lemire O Lemire Credo sia Lemire Quindi insomma È il Moon Knight Più moderno Quello con Tante personalità Che si risveglia Tra l'altro Proprio in un ospedale Psichiatrico E verrà raccolta Tutta a maggio 14 numeri 35 euro Ma è una serie completa È anche abbastanza godibile A sé stante Gen Size Edition Quindi Volumi grandi Con sovracco fanetto Fantastici 4 Di Jonathan Hickman Volume 1 Perché chiaramente La run di Hickman È un po' più lunghina Quindi non può essere raccolta Tutta assieme Nei Gen Size Formato gigante Forse L'Hickman Che ho preferito L'Hickman Più facile Da leggere Mettiamola così I Fantastici 4 E Galactus E Contro Norman Osborn Che all'epoca Era il capo Dello Shield Anzi diventato Tra l'altro Hammer Nell'epoca E soprattutto Quello che poi porterà Secret Wars La scoperta delle incursioni Cosa significa Quando due universi Si scontrano Insomma Jonathan Hickman Tira fuori Delle cose interessanti Che poi Hanno influenzato parecchio La Marvel Di una decina D'anni fa Che ha portato poi A Secret War E che in qualche modo Ispirerà Anche i film Che vedremo al cinema Quindi Sono dei bei Fantastici 4 Quelli di Hickman Se li volete In formato gigante Perché non l'avete mai letti Ecco qua Certo 55 euro Per 384 pagine Ma il formato È veramente grosso È di pregio È di pregio Però Hickman Se lo merita Hickman se lo merita Wolverine Gioco Mortale Edizione definitiva Definitive Edition Per i 50 anni Di Wolverine Cover in ecopelle E dettagli metallizzati Senza il suo scheletro Di Adamantio Che gli è stato tolto Con un fattore rigenerante Che fa un po' le bizze Wolverine Sembra aver finalmente Trovato un equilibrio È quindi un vero peccato Che Seb, Ritut E gli eredi di Apocalisse Abbiano deciso Di portarlo Sull'orlo Della follia Storie scritte Disegnate Da Adam Da Adam Kubert Uno dei disegnatori Che amo Di più Che in effetti Come dice qua Mancano da parecchio Si parla di anni 90 Metà anni 90 Con insomma Un Wolverine brutale Molto anche Quasi animato Cioè nel senso Un Wolverine Molto Infatti Tanto vedete Non ha più lo scheletro Di Adamantio Che gli è stato tolto E ha i Ha questi strani guanti Insomma È tutto molto anni 90 Anche il costume Quello della serie animata Fatelo vostro Costa 66 euro Perché sono quasi 500 pagine Ma raccoglie Completamente Il ciclo di Leriyama Kubert Jono Strand Dei disegni Addirittura c'è anche Insomma Un Wolverine anni 90 Messo alle strette In un periodo Dove non aveva più L'Adamantio in corpo Quindi Era anche Più debole Del solito Potrebbe essere interessante Vabbè Edizioni in ecopelle Voglio vederla dal vivo Questa copertina Un po' Un po' bizzarra E chiudiamo Con i masterworks Quindi ristampe classiche Abbiamo il numero 15 Con le ristampe di Iron Man E poi abbiamo una raccolta Di Spidey Anno da matricola Spidey era una miniserie Che rinarrava da capo Le origini di Spiderman Molto semplice Adatte magari a ragazzini Delle medie Ragazzini più in Agli inizi magari Della loro lettura A Marvel Potrebbe essere interessante Io l'avevo presa Nei volumettini Qua viene raccolta In un unico In un unico Brossurato Carina Serie Serie molto carina Chiudiamo Velocissimo Perché poi Anteprima appunto È Finita Abbiamo le ristampe Segnalo Nelle ristampe Che a maggio Verranno ristampate Superman Stagioni Quindi un altro Modo di vedere Superman In varie epoche Bellissimo Il Miles Morales Le sue avventure Nell'universo Marvel Spiderman Must have Spiderman Il regno dei morti Quindi uno dei migliori Approcci al personaggio Secondo me Per iniziarlo Se non l'avete mai letto E addirittura L'ultima caccia di Kraven Anche Con L'explore finale Del cacciatore E addirittura Viene ristampato L'ultimo Ronin Quindi Maggio Teenage Mutant Ninja Tartos L'ultimo Ronin Ultima caccia di Kraven Spiderman Regno dei morti Che è ottimo Per iniziare a leggere Il ragno Se non l'avete mai letto Superman Stagioni Volendoci anche Batman Una morte in famiglia Batman Il lungo Halloween Se non lo volete prendere In formato Omnibus Con l'omnibus Di Loe Bessail Insomma C'è anche Topolino sull'Oriente Express Il destino di Paperone Che mi sento di consigliare In ambito Disney Ma Maggio Questa serie di ristampe Tenetele d'occhio Soprattutto l'ultimo Ronin Perché ogni volta che lo ristampano Con le tartarughe ninja Viene subito Subito fatto fuori Questo futuro Dove le tartarughe ninja Sono morte Tutte tranne una Che usa le armi Di tutte le altre Con una fascia nera E non si sa chi è Leggetelo Leggetelo Perché è veramente Veramente bello Vi saluto Grazie per avermi ascoltato Ce la siamo cavata In poco più di un'ora Senza soffitto Ovviamente No Schiacchiero da solo Quindi c'è meno contraddittorio Siamo andati un po' più Più veloci Ma fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Cosa comprerete Cosa non comprerete Io vi ricordo Che tutti gli acquisti Li potete fare Su insidecollector.com Vi lascio il link Qua sotto Lo trovate comunque In descrizione Del video Vi ricordo Che se volete Magliette o felpe nerd Potete andare su Nerdostore Anche qua il link C'è in descrizione video E se scrivete uomo Avete il 15% di sconto Quindi sia qua Che su inside Scrivete uomo Tutto maiuscolo E avete una serie Di sconti E aiutate anche Il canale Io vi aspetto Nei prossimi video youtube Arriveranno cose Molto interessanti Vi aspetto in live Su twitch Venite su twitch Mi raccomando Perché possiamo chiacchierare Vis a vis Parliamo Io leggo i vostri commenti Vi do dei consigli Quindi non mancate Si parla di cultura pop A 360 gradi Venite a trovarmi Anche su Twitch Ripeto nei commenti Fatemi sapere Magari cosa ne pensate Di questo nuovo numero Di anteprima Cosa comprerete Cosa no E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao 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 ciao